Non entrate, sorella, c'è la figlia del diavolo là dentro. Sono Valeria Carnes, l'omicida, che è diretta alla prigione di Norwich per esservi piccata domattina. Lo avevo le nove, non fu questa l'accusa? Mi diede tre compresse in una volta, una dose che avrebbe ucciso anche un cavallo. Questa volta me la pagherete! Io non sono stata a Sydney, sono innocente, sono giovane! Un classico del cinema americano, La Campana del Convento, martedì alle 20.55.